In generale, i voli spaziali hanno causato la morte di 18 persone, tutte durante il decollo o l'atterraggio. Sembra che non ci sia niente di più pericoloso di questi momenti, ma immagina di essere nello spazio. E all'improvviso non puoi tornare alla stazione e stai venendo lentamente trasportato verso una lenta morte dolorosa. Anche se gli astronauti non hanno paura di questo. Perché? Scopriamolo subito. Gli astronauti possono davvero volare lontano dalla navicella durante una passeggiata spaziale, ma finora nessun astronauta ha incontrato un destino così terribile durante una missione. Ma questo non significa che la NASA ignori la questione. L'agenzia richiede agli astronauti delle passeggiate spaziali di usare cavi e talvolta ancoraggi aggiuntivi. Ma ammettiamolo, qualsiasi dispositivo può guastarsi e quindi una persona può ritrovarsi bloccata da sola nello spazio. Certamente è un paio di secondi di vero errore. Per fortuna ci sono protocolli speciali. In quel caso gli astronauti indossano jackpack di emergenza progettati specificatamente per salvare le persone al di fuori della stazione spaziale. Il piano della NASA prevede che un astronauta che sia liberato dalla navicella spaziale deve attivare i comandi manuali del jackpack e tornare al sicuro. Bene, ciò suona abbastanza semplice finché non ti rendi conto che la quantità di carburante in questo jackpack è limitata. E se un altro astronauta non viene rapidamente in soccorso o se ci sono problemi con la camera di equilibrio nessun protocollo lo salverà. Tutto ciò che può fare in questa situazione è guardare lo spazio esterno per circa 7 ore e mezza fino a quando non esaurirà l'ossigeno. Oggi abbiamo jackpack che possono salvare la vita di una persona ma nel 1973 gli astronauti Pete Cornard e Joe Kerwin non avevano niente del genere mentre erano fuori dalla stazione spaziale a lavorare su un pannello solare bloccato nella posizione sbagliata. Ma all'improvviso la race è girato e ha quasi gettato via gli astronauti. Per fortuna i loro legami hanno tenuto ed entrambi gli uomini sono tornati alla stazione ridendo. Ora il primo jackpack è apparso nel 1984 ed è stato utilizzato semplicemente per riparare i satelliti di comunicazione e i jackpack per l'uso di emergenza sono diventati disponibili per gli astronauti solo nel 1994. Le cinghie di sicurezza resistenti al calore sono attaccate alla vita dell'astronauta e si estendono per circa 7 metri e mezzo mentre l'altra estremità del cavo è attaccata ai cori in mano sul telaio della stazione spaziale. Inoltre gli astronauti devono essere legati l'uno all'altro mentre il carico massimo del cavo di sicurezza è di circa 400 kg. Gli astronauti sono sopportati non solo da corde colleghi il loro lavoro sarebbe specialmente impossibile senza persone sulla Terra dipendenti del centro di controllo della missione effettivamente per sopportare le poche persone sull'ISS migliaia di altri stanno lavorando in basso pronti a fornire l'assistenza necessaria in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione. Il team di Terra raccoglie i dati dal veicolo spaziale e il team di controllo di volo analizza quei dati per decidere come procedere al meglio e naturalmente gli astronauti possono contattarli in qualsiasi momento se necessario. Questo supporto è davvero importante soprattutto quando ogni secondo conta e gli astronauti stanno rischiando la propria vita. Durante la sua prima passeggiata spaziale l'astronauta canadese Chris Hadfield ha notato che il suo occhio sinistro ha iniziato a pungere e presto si è riempito di lacrime. Le lacrime hanno formato una macchia di liquido che ha coperto anche il suo occhio destro e questo ha acceccato l'astronauta nello spazio con uno strumento in mano. Temendo che la sensazione di bruciore fosse causata da una perdita di gas tossico all'interno della tuta il controllo a terra ha consigliato Hadfield di rilasciare l'aria solo per eliminare il contaminante. Ma pensaci, mentre si trova nello spazio rilascia l'aria consapevolmente e sa letteralmente una garanzia della propria sopravvivenza ma l'astronauta è riuscito a superare la sua paura e ha funzionato dato che c'era abbastanza aria rimasta per completare la passeggiata nello spazio. Ma cosa sarebbe successo se Hadfield non avesse avuto nessuno ad aiutarlo? Ovviamente non sarebbe annegato nello spazio, non perché non può accadere dato che questo in realtà è quello che è successo al militare astronauta Luca Permitano infatti durante una passeggiata spaziale il suo casco ha iniziato improvvisamente a riempirsi d'acqua non di lacrime ma di acqua normale contenuta all'interno della tuta spaziale non bisogna dimenticare che il tutto è successo a gravità zero cioè il liquido non poteva gocciolare o scorrere negli stivali quindi è rimasto nel casco ed è entrato negli occhi, orecchi e narici del povero uomo. L'astronauta potrebbe letteralmente annegare mentre a gravità zero e l'uomo non ha sentito comandi dalla terra e non vedeva quasi nulla ma è comunque riuscito ad entrare vivo nella camera di equilibrio in seguito è stato rilevato che l'acqua è entrata nella tuta spaziale a causa di un sistema di ventilazione rotto la stessa tuta spaziale ha cercato di ucciderlo e se l'astronauta non fosse stato in grado di ritrovare la via di ritorno nessuno sa come sarebbe andata a finire questa storia ma gli ingegneri hanno imparato una lezione e hanno iniziato a sviluppare il pulsante portami a casa un pulsante anche azionabile a distanza che attiverà un sistema che riporterà automaticamente l'astronauta alla stazione la cosa più importante nello spazio non importa quale sia l'emergenza è stare sempre calmi il panico nello spazio può essere mortale quindi gli astronauti devono essere preparati a qualsiasi cosa i primissimi astronauti della nasa sono stati selezionati tra i piloti collaudori e poi sono stati lanciati nelle giungle delle filippine senza rifornimenti o istruzioni assistiti solo da una guida locale che non parlava l'inglese già hai sentito bene questo ovviamente non è spazio esterno ma funziona abbastanza bene come il suo addestramento oggi l'addestramento ovviamente è diverso nessuno lancia più astronauti nel mezzo della giungla ma le basi rimangono le stesse non dare agli astronauti abilità speciali di sopravvivenza insegnando loro come lavorare in una squadra gestire le sfide ignorare il cattivo umore e trovare i loro punti di forza e di debolezza in breve tutto per aiutarli a svolgere i loro compiti ad esempio durante la riparazione del telescopio spaziale Hubble gli astronauti dovevano passare circa 8 ore nello spazio qui l'astronauta Michael Massimino che era incaricato della riparazione stava iniziando a sentirsi frustrato e si incolpava di essere inadeguato per il lavoro ma grazie all'esperienza ricevuta durante l'allenamento è stato in grado di far fronte ai suoi pensieri negativi e il telescopio Hubble è stato riparato tuttavia c'è anche un test subacqueo in una piscina a profonda 12 metri con all'interno una replica dell'ISS questa struttura conosciuta come laboratorio di galleggiamento neutro è dove i futuri astronauti si addestrano per le passeggiate spaziali poiché l'acqua è il mezzo migliore per simulare l'assenza di gravità e mettere un candidato astronauta in una tuta spaziale aggiunge un po' di peso e diventa neutralmente esuberante cioè non galleggerà né affonderà sospesi in questo stato i candidati aspettano ore intorno alla piscina facendo riparazioni e altri compiti sulla falsa stazione spaziale oltre agli addestramenti precedenti gli astronauti si sottopongono a quella che viene chiamata psicologia aerospaziale essi aiutano gli astronauti anche le prime persone che sono salite a bordo delle stazioni spaziali stavano vivendo un grave stress psicologico isolamento, difficoltà di comunicazione rischio di depressione e solitudine per far fronte a tutto questo è necessario essere davvero molto stabili mentalmente anche conversazioni regolari con specialisti prima, dopo e durante il volo non possono garantire che una persona sopporterà il suo soggiorno nello spazio ecco perché gli astronauti passano attraverso un duro processo di selezione tra 60 candidati i psicologi aerospaziali ne selezionano solo 10 e questi sono il meglio del meglio diventare un astronauta può essere davvero impegnativo che è quasi impossibile nel 1981 infatti Clayton Anderson è entrato a far parte della NASA come stagista nel 1983 si è unito a tempo pieno come ingegnere e quello stesso anno ha fatto domanda per diventare un astronauta che è stata la sua prima domanda su 15 la NASA lo ha respinto ancora e poi ancora ma l'uomo non si è mai arreso e ha graduamente migliorato il suo curriculum oggi Clayton è un astronauta in pensione che ha completato ben 6 passeggiate nello spazio durante la sua carriera bene, se mai vuoi un esempio di quanto sia importante credere nei tuoi sogni e i cartoni animati Disney non funzionano più leggi la sua storia e questo era tutto infine se il video ti è piaciuto metti mi piace e non dimenticarti di iscriverti al canale oltre anche ad attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornato quando pubblicheremo un nuovo video grazie a tutti